La Giunta regionale delle Marche, già dalle prime settimane del suo insediamento, ha voluto dimostrare un vero e proprio cambio di passo nelle politiche sanitarie di questa Regione. Lo ha fatto dicendo no, già dal mese di novembre, alla costruzione degli ospedali unici e sì ad una sanità di eccellenza diffusa sul territorio, a partire dalla costa fino ad arrivare alle aree interne del nostro territorio e delle nostre cinque aree vaste. Poi un passaggio successivo ha incrementato i fondi da destinare all'edilizia sanitaria ospedaliera. Qualità dell'edilizia sanitaria ospedaliera che verrà realizzata non solo con la costruzione di nuovi presidi ospedalieri, ma anche riqualificando i presidi esistenti sul territorio, lungo la costa e nelle aree interne. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo verso l'adozione del nuovo piano socio-sanitario. Abbiamo dato una risposta ad un'esigenza storica delle strutture ospedaliere H24 insistenti su tutto il territorio regionale marchigiano, ossia abbiamo utilizzato fondi che erano disponibili presso il Ministero dell'Ambiente per la rimozione dell'amianto in ben 21 strutture sanitario-ospedaliere della nostra regione. 4,7 milioni di Euro che verranno destinati non solo alle strutture principali lungo l'asse costiero e litoraneo della nostra regione, ma anche in tutte le aree interne delle nostre cinque aree vaste. Un cambio di passo importante per dare una risposta al diritto alla salute degli operatori che lavorano all'interno delle strutture ospedaliere marchigiane, ma per dare una risposta al diritto alla salute di tutti i cittadini marchigiani. Non esistono più cittadini marchigiani di serie A e cittadini marchigiani e cittadini marchigiani di serie B.